Ciao a tutti, oggi dipingiamo la folia del altro giapponese, il nome giapponese si chiama Momiji, se significa la folia rossa, già conoscete voi, in giapponese amano vedere i fiori dei chilieji in primavera. Anche in autunno loro amano guardare le folie dell'acido, vediamo forma così, la folia è profondamente inciso, ci sono sette rovi, colore rosso fiamme, allora dipingiamo insieme Momiji. Dipingiamo Momiji, colore, preparazione prima, chiaro. Tutto mettiamo dentro del pennello grande, poi togliere acqua, sempre acqua giusta, costruire punta, poi dopo, secondo, prendete colore scuro, pochino, poi schiaccia, gira, schiaccia, gira, come choboku. Ok? Chiaro scuro, costruire dentro del pennello. Poi, pronto, punta formale, cominciamo a dipingere la folia di acido. Sette rovi, prima centro, cominciamo così. Pennello dritto, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette. E poi, piccola punta usiamo, come così, prendete il pennello, da folia, fuori, poi un po' fermare, diventa un po' testativa. Questo è uno, prova. Poi, stesso pennello, usiamo, aggiungere acqua, poi punta formale, cominciamo. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, rovi, poi picciolo. Poi, oggi abbiamo dipinto due folie del arce, ok?